ciao e benvenuti questo brevissimo video solo per presentarvi il nuovo format che ho pensato per avvicinare le persone alle tecnologie e mi spiego meglio vi sarà capitato a me è capitato spesso di vedere delle persone utilizzare dei dispositivi in maniera veramente ineccepibile davvero molto bene ma senza avere idea di cosa stia utilizzando e quindi mi è venuta l'idea per questo format ossia portarvi dei video che tratteranno argomenti che riguarderanno l'elettronica l'informatica la meccanica quindi più o meno quello che ho sempre trattato nel canale però dedicato ad avvicinare le persone a comprendere come funzionano i dispositivi che utilizziamo tutti i giorni quindi i commenti sono a vostra disposizione per proporre le vostre idee quelle più votate saranno prese in considerazione per i prossimi video quindi scrivete nei commenti le vostre idee non vi aspettate delle lezioni universitarie lo scopo di questi video è avvicinare nel modo più semplice possibile la maggior parte delle persone quindi tratterò questi argomenti nel modo più generico e semplice possibile e ricordate che i commenti sono a vostra disposizione per proporre gli argomenti che più vi interessano non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdere i video che vi porterò e se volete aiutare questo format del canale stesso mi raccomando condividete sia il canale che il video e noi ci vediamo al prossimo video ciao